Allora ragazzi, abbiamo visto la lezione scorsa, abbiamo completato il discorso sulle funzioni e abbiamo ragionato sui meccanismi di condivisione dei dati tra funzione chiamante e funzione abbiamo introdotto il concetto di funzione in line e abbiamo ragionato più in generale sulle regole di visibilità delle variabili e quindi abbiamo capito che le variabili nel linguaggio C++ hanno una visibilità locale cioè sono accessibili, modificabili solo all'interno del blocco nel quale sono inserite questo può essere la funzione e quindi le variabili, abbiamo visto le variabili parametri di scambio quindi parametri formali definiti nella funzione ma anche le variabili locali alla funzione la cui visibilità è ristretta alla funzione stessa abbiamo ragionato da due punti di vista, sia per quanto riguarda il cosiddetto ciclo di vita sia per quanto riguarda le regole di visibilità vi ricordate la differenza? Che cos'è il ciclo di vita di una variabile? vi ricordate quello che abbiamo detto? questa è la visibilità il ciclo di vita è l'istante di tempo in cui la variabile è allocata in memoria e l'istante di tempo in cui la variabile in memoria non c'è più nel caso delle variabili automatiche cioè quelle allocate automaticamente sullo stack che sono le variabili sia locali alle funzioni sia le variabili parametri di scambio questo ciclo di vita è ristretto a tutta la funzione cioè queste variabili vengono allocate sullo stack all'atto in cui parte la funzione quando la funzione termina con l'istruzione retardo queste vengono rimosse dallo stack e quindi la loro presenza non esistono più in memoria non si può più fare riferimento a quelle variabili quindi il ciclo di vita di una variabile è l'istante di tempo in cui la variabile viene messa in memoria l'istante di tempo in cui la variabile viene tolta dalla memoria invece la visibilità di una variabile è l'insieme delle istruzioni quindi quel blocco di codice nel quale si può fare riferimento ad una determinata variabile ancora nel caso delle variabili automatiche questo ciclo di vita è limitato alla funzione stessa sia i parametri formali della funzione sia le variabili locali quindi definite dentro la funzione possono essere modificate e accedute solo all'interno della funzione nel caso del main poiché il main vive tutta la vita del programma le variabili sono comunque allocate sullo stack perché il main è una funzione come tutte le altre però la loro vita è una vita globale cioè le variabili automatiche del main vengono allocate sullo stack quando parte il main vengono deallocate quando termina il main ma quando termina il main termina tutto il programma e quindi le variabili automatiche del main hanno un ciclo di vita che è un ciclo di vita globale del programma ancora abbiamo visto che le variabili automatiche cioè quelle che sono allocate sullo stack possono avere una visibilità ancora più ridotta e un ciclo di vita ancora più ridotto perché le posso definire in un blocco cioè un blocco è l'insieme delle istruzioni delimitate da parentesi graffa aperta parentesi graffa chiusa in questo caso una variabile definita nel blocco vive la vita del blocco viene allocata quando parte il blocco viene deallocata quando termina il blocco e anche la visibilità è una visibilità legata al blocco stesso abbiamo fatto alcuni esempi abbiamo visto che posso allocare una variabile direttamente quando parto con un ciclo for e questa abbiamo usato per esempio le variabili di controllo dei cicli abbiamo visto che possono essere definite direttamente nel ciclo scrivo for int uguale 0 i minore di 100 i più più allora la variabile i viene allocata sullo stack quando parte il ciclo for vive tutta la vita del ciclo for quando il ciclo for termina la variabile viene deallocata poi abbiamo introdotto il concetto di variabile globale la variabile globale è una variabile che invece viene definita al di fuori di ogni funzione la sua vita è la vita dell'intero programma ed è accessibile da tutte le funzioni definite all'interno del mio programma però ci siamo posti un problema dato che la volta scorsa vi ho fatto vedere che un programma, un progetto lo possiamo fare su più file abbiamo più file sorgente poi abbiamo leader file che ci permette di utilizzare i prototipi delle funzioni e leader file va incluso nei vari file dove voglio usare quelle funzioni allora la domanda che vi pongo è questa ma se una funzione io la definisco in un file per esempio nel file del progetto che abbiamo visto la definisco nel file main.cpp la posso usare solo all'interno di quel file o la posso usare anche in altri file cioè la visibilità è legata fisicamente al file nel quale ho definito la funzione o la posso usare anche all'esterno qui c'è un problema proprio da un punto di vista di programmazione se definisco una variabile in un file mi chiedo ma in un altro file come faccio a utilizzare questa variabile? la domanda nasce dal fatto che il mio compilatore come abbiamo visto compila separatamente ogni singolo file dopodiché il linker mette insieme i pezzi e genera l'eseguibile allora se una variabile è definita in un file la chiamo x come faccio in un altro file a usare proprio quella variabile x questo è un po' il problema e prima di andare avanti volevo fare alcune riflessioni su questo aspetto allora la prima riflessione è questa forse ci è anche comodo vedere un esempio allora guardate il prendiamo questo progetto dei rettangoli il problema che abbiamo visto di andare a valutare la sovrapposizione calcolare l'aria eccetera allora in questo progetto c'è un file questa parte è più città me la leggo io in questo progetto c'è un file che si chiama functions.cpp uno che si chiama main.cpp e un altro che si chiama functions.h nel file main.cpp b Allora, nel file name.cpp io ho scritto una serie di istruzioni nelle quali realizzavo appunto l'algoritmo dei rettangoli Allora, vi faccio una domanda. Se io avessi voluto in questo file, per esempio, queste variabili definirle globali quindi piuttosto che essere io a passarle alle funzioni, le volevo definire in questa maniera Dopodiché volevo evitare, e quindi una volta dei file globali, avrei potuto evitare di passarle alle funzioni Abbiamo visto che questa non è una buona strategia, perché se è una variabile globale, chiunque la può modificare in caso di errore, io non so, devo riguardare l'intero codice, quindi la fase di testing e di verifica del codice si complica Ma supponiamo che per motivi di efficienza, per evitare passaggio di parametri, volevo fare questa cosa Allora immaginate che io queste variabili, invece di metterle qui dentro, le definivo qui Quindi, tutte queste variabili me le definivo come variabili globali A questo punto però, c'è le funzioni qui dentro, utilizzano queste variabili Abbiamo detto che queste funzioni non hanno più bisogno di ricevere il dato, perché è un dato globale Ma la domanda è questa, ma io qui dentro come faccio a capire che le variabili si chiamano xr, xc e qual è il loro indirizzo di memoria Se vi ricordate, quando abbiamo parlato dell'area di memoria associata a un progetto abbiamo detto che c'è un area code, e in quest'area code io che cosa ci trovo? Ci trovo il main.o, quindi ho tradotto in linguaggio macchina, no? In questo progetto io ho due file, main.cpp e functions.cpp Il compilatore, quando faccio il processo di compilazione, compila questi due file e genera due file che si chiamano main.o e functions.o Il linker mette insieme questi due file, aggiunge i file di libreria e genera il codice per le funzioni functions.o, main.o e per le altre funzioni di libreria tutto questo viene messo in un area che si chiama area code quindi qui c'è tutto il codice, il linguaggio macchina del mio programma tradotto dal compilatore Poi abbiamo un area che chiamiamo data per le variabili globali Ragazzi, quest'area viene allocata una volta per tutte e rimane in vita per tutto il programma Poi abbiamo qui lo step dove vengono allocate le variabili automatiche Allora, il problema qual'è? Quando il compilatore sta compilando il file functions.gpp non ha proprio idea di quello che è successo nel main perché li sta compilando separatamente Allora, se io in questo file ho definito queste variabili come faccio a sapere 1. che nome hanno 2. dove si trovano in memoria perché quando il compilatore ha compilato questa parte qui ha allocato in memoria in quest'area le variabili globali ma qui dentro io non so dove stanno cioè non le ho ancora aggiunte alla mia tabella dei simboli In pratica il compilatore qui dirà prendiamo ad esempio la variabile xa dirà la variabile xa è di tipo intero, è globale, la metto in memoria all'indirizzo 1000 questo è un indirizzo assoluto, è un indirizzo che sta in memoria qui quindi quando si alloca una variabile nel main tipo bool sovrapposti uguale true questa variabile booleana sovrapposti viene allocata sullo stack in che posizione? nella prima posizione libera dello stack quindi per la variabile sovrapposti che è di tipo booleano qui ci sarà un indirizzo espresso come stack pointer più qualche cosa per esempio più 10 perché ho allocato altri byte quindi mentre qui ho un indirizzo assoluto qui ho un indirizzo relativo rispetto allo stack point tutto questo avviene qui dentro ma se in quest'altro file voglio utilizzare questa variabile xa che si trova all'indirizzo 1000 in quest'area come faccio? allora la regola generale è questa per poter utilizzare una variabile che si trova in un altro file all'inizio di questo file devo mettere una dichiarazione qui dentro dovrò scrivere la dichiarazione extern allora vedete? nella file functions.cpp ho scritto extern int xa yi eccetera eccetera allora il compilatore quando compila questo file e trova questa istruzione secondo voi che cosa può fare? allora innanzitutto se non ci fosse la parolina extern che farebbe? secondo voi che potrebbe fare? andrebbe a ridefinire queste variabili un'altra volta mettendole in un altro indirizzo sempre in quest'area data allora avremmo un duplicato avremmo delle variabili che si chiamano xa yi eccetera eccetera definite qua dentro in una certa area in questo spazio qui la funzione function se le ridefinirebbe e le metterebbe in altri indirizzi di memoria sempre qui dentro qual è l'effetto? sono tutte variabili probabili però quando mi trovo in questo file se mi riferisco alla variabile xa è quella che sta all'indirizzo mille se sto in quest'altro file e mi riferisco alla variabile xa è quella che sta per esempio all'indirizzo 2000 cioè ho fatto un gran macello perché penso che queste variabili sono le stesse in realtà in due file diversi se uso gli stessi nomi sto in pratica limitando la visibilità di questa variabile perché il compilatore che dice quando trova una variabile xa non va a prendere il nome della variabile che sta in quest'altro file la trova ridefinita qua se la rende in tabella dei simboli per lui si trova in un altro indirizzo di memoria e quindi ho fatto una cosa terribile perché pensavo di aver usato delle variabili globali ma in realtà sto utilizzando variabili globali diverse ma ognuna visibile solo all'interno del suo file ragazzi si dice in questo caso che una variabile definita in un file limita la visibilità di una variabile in un altro file quindi se io le chiamo alla stessa maniera le chiamo il xa qui dentro e il xa qui in pratica ho limitato la visibilità di quelle variabili solo a quel file perché il compilatore quando trova un nome di variabile prende la definizione a lui più prossima quindi se quella variabile definita globale è qui dentro lui prende quell'indirizzo e utilizza quel dato ragazzi questo è anche vero nel caso delle variabili automatiche se io all'interno di una mia funzione utilizzo un nome per una variabile automatica che è lo stesso nome di una variabile globale definisco per esempio come globale una variabile x qua scrivo int x poi dentro una di queste funzioni verify input, redirect eccetera mi definisco un'altra variabile automatica che chiamo x e la metto sullo stesso allora in questo momento ho due variabili che si chiamano x una che sta qua dentro che è globale una che sta sullo stack che è locale dentro la funzione quando io mi riferisco alla variabile x secondo voi divido questo e questo prendo quella che c'è sullo stack cioè il compilatore prende sempre la definizione di variabile a lui più vicina se ho chiamato x una variabile di una funzione per lui x è una variabile automatica anche se ce n'è una globale che si chiama x allora fate attenzione se fate confusioni con i nomi ridefinendo una variabile automatica con lo stesso nome di una globale delimitate la visibilità perché dentro quella funzione quando faccio riferimento a x è la x locale e non la x generale la stessa cosa vale per i file se definisco due variabili globali una qui dentro e una qui dentro con lo stesso nome non ci sono tanti qui dentro uso quella definita qua qui dentro uso quella definita dall'altra parte ma se io voglio usare le stesse variabili da qui e da qui che faccio? allora i progettisti si sono inventati l'uso di questa parolina chiave extern la parola chiave extern che cosa dice al compilatore? guarda io voglio usare delle variabili che si chiamano x a x y a eccetera eccetera che sono state definite da qualcun altro in un altro file quindi voglio usare delle variabili globali che qualcun altro ha definito ma io qui dentro lo so questo indirizzo qual è? non lo so perché sono state definite qua e allora il compilatore come fa a generare il codice? si trova una variabile x a però non ne conosce l'indirizzo perché questo indirizzo qua ce l'ha messo il name qui dentro io quest'indirizzo non lo so e allora il compilatore che fa? il compilatore fa l'unica cosa che può fare cioè genera il file factions.o ma in coda a questo file ci mette una lista di variabili che si chiamano riferimenti esterni non risolti cioè lui dice guarda x a non so dove sta x b non so dove sta e così via quindi quando genera factions.o ci aggiunge un elenco che si chiama l'elenco dei riferimenti esterni non risolti e si segna tutte le istruzioni in linguaggio macchina che fanno riferimento a queste variabili perché se le segna? perché queste istruzioni non sono ancora complete perché ci mancano gli indirizzi di queste variabili da mettere nel campo operando quando il compilatore compila il file main.cpp e trova quell'istruzione lì secondo voi che fa? genera main.o e genera ci aggiunge un'altra lista di variabili che sono le variabili globali visibili all'esterno stavolta stavolta lui queste variabili le ha messe in memoria e quindi sa che x è all'indirizzo 1000 x v per esempio all'indirizzo 2000 e così via e quindi mette per ognuno di queste variabili l'indirizzo di memoria dove lui ha allocato queste variabili nell'area theta vi seguite? allora abbiamo che in main.o c'è un elenco di nomi di variabili con i relativi indirizzi di memoria nel file funkshots.o c'è un elenco di nomi di variabili per i quali io l'indirizzo non lo so il combinatore si ferma qui ora entra in gioco il linker il linker comincia a mettere insieme i pesi e dice main.o ha queste variabili esterne visibili funkshots.o ha queste variabili non risolte allora comincia a prenderla prima xa la trovo da qualche parte xa e comincio a vedere in tutti i file che ho generato se per caso c'è una variabile che si chiama xa che è stata allocata in memoria qui la trova da definire allora va a guardare negli altri file con estensione .o se per caso questa variabile è nell'elenco delle variabili esterne la trova dice ok l'indirizzo è 1000 allora ricorda qua dentro la variabile xa vale 1000 in tutte le istruzioni nelle quali si fa riferimento a queste variabili mette l'indirizzo 1000 e così lo fa per tutte le altre quando ha fatto questo ha reso definitive quelle variabili e quindi ha generato l'eseguibile questo è il modo per quale una variabile non definita qui dentro può essere utilizzata però devo dire al combinatore guarda quella è una variabile esterna cioè qua gli devo dire queste variabili non le ho definite io ma le ha definite qualcun altro per me allora qual è la regola generale? supponete che io ho organizzato il mio progetto utilizzando più file quindi ho per esempio main.cpp poi chiamo f1.cpp poi f2.cpp e così via ho tutti i file diversi allora quando il compilatore compila mi fa main.o qui mi fa f1.o qui mi fa f2.o e così via allora supponete che nel file fn.cpp tradotto come fn.o dal compilatore io ho trovato l'istruzione extern int x allora il mio compilatore il linker dice guarda in questo file c'è la variabile x che è un riferimento esterno non risolto allora il compilatore che fa? va a guardare tutti questi file e uno per uno comincia a dire per caso qui dentro c'è una variabile globale che si chiama x? no per caso qui dentro c'è una variabile globale che si chiama x? no per caso qui dentro c'è una variabile globale che si chiama x? sì allora mi dico questo quindi la regola è il linker esplora i file nell'ordine in cui compaiono e uno per uno va a guardare se quel nome esterno fa parte delle variabili globali definite in quel file il primo che trova quello prende allora ragazzi secondo voi che succede se io definisco una variabile globale x qui e ne definisco un'altra qui ho definito qui dentro int x come globale e qua int x come globale succede che il linker comincia a guardare i file in quest'ordine il primo che trova li prende quella variabile e quindi in questo caso questa variabile esterna è associata a questa variabile x ragazzi se per caso nessuno di queste variabili defina qui dentro il compilatore e i linker che fa? prima di dare errore va a guardare qui dentro dato che io sto usando la libreria io string e la libreria cstdlib vado a guardare in tutti i file di libreria in questi file c'è scritto codice cppc esattamente come questo vado a guardare se per caso quella variabile non è stata definita nei file di libreria che io voglio usare se è definita lì me la piglio se non la trovo neanche lì finalmente avete un messaggio dal linker che vi dice external reference not solving cioè riferimento esterno non risolto questa variabile mi hai detto che è esterna ma non l'ho trovata da nessuna parte allora questo meccanismo ci sono alcune controindicazioni che dovete sapere 1 non usate mai nomi di variabili che sono stati utilizzati nei file di libreria per esempio nei file di libreria sono definite alcune cose la costante simbolica null alcuni nomi di variabili sono definiti nei file di libreria se disgraziatamente usate proprio quel nome come nome di variabile esterna in uno di questi file voi pensate di usare quella variabile come una variabile di libreria in realtà il linker voi il primo che trova utilizza e quindi gli assegna quella variabile globale ad un'altra area di memoria che non corrisponde più alla funzione di libreria ma la funzione di libreria è stata scritta per usare quella variabile messa nella sua area di memoria quindi si disallineano le aree di memoria e il comportamento del codice è impredecibile quindi 1 fate attenzione nell'usare i nomi delle variabili 2 non utilizzate in file diversi gli stessi nomi perché se ridefinite una variabile globale con lo stesso nome in un altro file il primo che lui trova utilizza come fate a capire qual è il primo che lui trova? lo capite perché i file qua si trovano in un certo ordine ragazzi il compilatore quando vede questo project genera questo codice chiama il comando cc che è il comando o gcc che è il comando del compilatore e dice usa il compilatore gcc dopo questo nome mi passo l'elenco dei file che voglio compilare quindi scrivo gcc main.cpp spazio f1.cpp spazio f2.cpp eccetera eccetera poi ci scrivo meno cioè ti do l'opzione il nome del file eseguibile e qua ci scrivo pippo e lui mi genera un file che si chiama pippo.exe mettendo insieme i pezzi di main.cpp f1.cpp eccetera eccetera allora i file compaiono nell'ordine che sta qui nella linea di comando poi questa non la vedete perché voi non lavorate a linea di comando ma voi potreste utilizzare il compilatore senza l'ambiente red beans diventete una shell di sistema windows e a linea di comando scrivete gcc functions main.cpp functions.cpp meno rettangoli.exe questa linea di comando genera fa tutta la compilazione e genera un programma che si chiama rettangoli.exe eseguibile piuttosto che farlo voi a linea di comando il project fa tutto questo per voi ma fa molto di più perché verifica quando compilate verifica anche le date dei file se l'unico file modificato è rettangoli il main non viene ricompilato una volta che io compilo questo genero main.o può farci una modifica qua genero f2.o però mi accorgo che la data di questa modifica cioè questo file ha una data successiva a questo allora capisco che scusate questa ha una data precedente a questo qui allora capisco che questo va ricompilato e che questo è stato modificato ma in questo caso qui se il main.o ha una data successiva a quella del main.cpp vuol dire che questo non è stato modificato allora allora questo non lo ricompilo ricompilo solo questo scrivendo il programma se io modifico questo questo file ha una data successiva al punto O che è stato compilato al pasto precedente allora io non ricompilo tutto ricompilo solo i file modificati ragazzi questo è quello che fate quando cliccate su questo pulsantino qua e fate build c'è anche l'opzione rebuild all indipendentemente dalle date ricompila tutto allora l'ambiente di sviluppo vi permette di fare in maniera automatica tutta una serie di cose che quando ho cominciato a programmare io facevamo in questa maniera al linee di comando l'editor era un editor che si chiamava why molto articolato non c'era un editor come questo tutto al linee di comando tutto quello che facevamo era su una shell di comando windows una cosa così vedete da qui dentro io posso lanciare posso lanciare il comando gcc e in questo caso mi da un errore perché il comando gcc vuole i nomi dei file che deve compilare ma io posso fare tutto da linea di comando posso lanciare il linker posso lanciare il debugger che si chiama gtb cioè tutto quello che faccio nell'ambiente di sviluppo lo posso fare direttamente in una shell di sistema lavorando a linee di comando ma fortunatamente oggi ci sono questi strumenti che sono molto più utili e noi lavoriamo direttamente qui dentro però non dobbiamo dimenticare quello che c'è dietro dietro c'è questo il modo l'elenco dei file che stanno scritti qua è esattamente l'elenco in cui i file compariranno nel comando gcc se uno viene prima quel file verrà esaminato prima dal linker con tutte le conseguenze che questo comporta quindi abbiamo capito una cosa fondamentale che io posso definire un progetto su più file posso definire delle variabili globali su più file devo stare attento ad utilizzare per le variabili globali nomi diversi in file diversi perché altrimenti succedono queste ambiguità che vi sto dicendo quindi tornando al al problema di partenza il dicevamo il il comando extern è quello che ci permette di condividere delle variabili tra più file ma a me potrebbe far comodo definire una variabile globale qui dentro ma volerla utilizzare solo qui cioè la voglio utilizzare solo per tutte le funzioni che si trovano scritte dentro questo file la posso fare questa cosa? questa cosa ci può tornare utile in alcune applicazioni cioè io non voglio che una variabile sia visibile al di fuori di questo file proprio per evitare quelle antiquità che dicevamo prima posso anche desiderare che una variabile sia globale al mio file allora i progettisti si sono inventati questo ulteriore qualificatore che si chiama static il qualificatore static vedete dice al compilatore guarda quando generi il file mail.org la variabile x se io scrivessi qui dentro l'istruzione questa è globale perché è dichiarata al di fuori di ogni funzione ma ha questa panolina chiara static davanti allora il compilatore che fa quando genera mail.org se io scrivo static int x e poi scrivo int y sono tutte e due globali questa è statica e questa non allora il compilatore che fa? quando genera mail.org in quel famoso elenco di variabili di variabili visibili all'esterno ci mette la variabile y per esempio in memoria all'inizio 2000 ma la variabile x non ce la mette allora se io in quest'altro file scrivessi extern int x il compilatore diceva bene vuoi usare la variabile x che qualcun altro ha definito allora metto x nell'elenco dei riferimenti esterni non risulti quando il controllo passa al linker che deve mettere insieme i pezzi dice tu stai cercando la variabile x la vado a cercare nei vari file vado qui dentro la trovo in quest'elenco no vado qui dentro la trovo nell'elenco no la variabile non c'è ti do un errore vedete in questa maniera avendo messo static la variabile x non è stata messa nell'elenco dei riferimenti esterni per il file main.o e quindi il linker non ce la trova se invece non ci avessi messo questo il compilatore avrebbe aggiunto anche la variabile x all'indirizzo 1000 il linker trovava x qua la andava a cercare nelle tabbe di questi file la trovava rendeva la associava alla variabile x quell'indirizzo di memoria in quest'area di dati globali allora ragazzi è tutto a carico del programmatore se io voglio usare una variabile globale e voglio che la vedano tutti la dichiaro così se voglio usare una variabile globale ma la voglio vedere solo in questo file uso il qualificatore stabile in tutti i file nei quali voglio usare delle variabili globali definiti altrove devo usare la parola chiave extra che dice al compilatore guarda non è un errore ma quella variabile in questo momento non so dov'è valla a cercare nei file che fanno parte di questo progetto se il linker la trova allora risolve questo riferimento esterno se non la trova mi da errore ok? abbiamo capito che le variabili possono essere locali cioè definite sullo spec globali cioè definite in quest'area ma possono essere statiche globali limitandone la visibilità al solo file nel quale è stata definita quella variabile ragazzi tutto questo vi è chiaro? allora aggiungiamoci l'ultimo pezzettino grazie allora dentro questa mia funzione che tipo per esempio void mi definisco una variabile dentro questa funzione essendo una variabile definita dentro questa funzione questa variabile com'è? è una variabile automatica cioè è una variabile definita dentro la mia funzione però ho messo questa parolina chiave static davanti allora static l'abbiamo legata a una variabile globale e abbiamo visto una variabile globale statica viene definita in quest'area qui ma la sua visibilità non è globale a tutto il progetto ma solo al file nel quale si trova ora ho usato il qualificatore static associato ad una variabile automatica qual è l'effetto? allora gli effetti possono essere due o sulla visibilità o sul ciclo di vita sulla visibilità c'è poco da fare questa è una variabile definita dentro la funzione vale la regola generale che questa variabile è visibile solo dentro la funzione allora abbiamo capito che static non può cambiare la visibilità della variabile static però ne cambia il ciclo di vita questa variabile non verrà allocata sullo schema verrà comunque allocata nell'area dei dati globali allora abbiamo questa strana cosa di avere una variabile che si trova nell'area dei dati globali quindi che vive tutta la vita del programma ma che è definita dentro una funzione e quindi è accessibile solo qui dentro quando la funzione termina questa variabile rimane in memoria ma nessuno la può modificare se non una nuova chiamata di questa stessa funzione qui questa è una cosa che sembrerebbe molto strana cioè queste variabili statiche automatiche hanno una una visibilità locale quindi legata alla funzione ha un ciclo di vita globale cioè resta in memoria per tutta la vita del programma ragazzi vi viene una qualche idea di che cosa potrebbe servire una variabile così supponete che io abbia una funzione per esempio in un sistema di controllo di una produzione che si attiva ogni volta che c'è un'anomalia allora io vorrei capire ovviamente c'è una funzione che richiamo che gestisce quell'anomalia a me interesserebbe capire me che sono un ingegnere della produzione capire ma questa linea di produzione ma quante volte va in anomalie allora vorrei poter contare il numero di volte in cui questa funzione viene chiamata allora o faccio proprio una variabile globale però poi devo essere io programmatore che ogni volta che chiamo la funzione che gestisce l'anomalia devo aggiornare un contatore e se io programmatore mi scordo di farlo poi c'è un errore e non lo faccio ragazzi quando noi scriviamo un programma sviluppiamo un algoritmo facciamo dobbiamo metterci nelle condizioni di evitare possibili errori allora se uno scrive un algoritmo per il calcolo delle date e non mette nessun controllo di valità della data secondo voi questo algoritmo è robusto più o meno voi fate affidamento alla bravura di chi mette i dati ma se chi mette i dati sbaglia e mi scrive il 37 ottobre il mio programma fa l'ipotesi che i dati sono buoni se li piglia e tira fuori i fischi per fiassi allora io progettista devo mettere tu mi metti la data però io prima di utilizzare quel numero verifico che quello sia un numero corretto alla stessa maniera se io voglio fare questa operazione fare questo controllo di qualità mi posso affidare al fatto che ho messo la regola guarda chiunque sia il programmatore prima di chiamare questa funzione aggiornami una variabile globale che mi conta il numero di eventi e se quello che se il programmatore che scrive quella parte di codice ragazzi quando si fanno queste cose c'è un team di lavoro ognuno sviluppa una parte del prodotto e poi si mettono i pezzi insieme allora posso mai fare l'ipotesi che tutti abbiano lavorato in maniera perfetta devo controllare l'esito allora se io programmatore faccio in modo che la mia funzione proprio all'atto della sua chiamata fa questa operazione e non la delego al programmatore scrivo un programma più robusto allora mi piacerebbe scrivere una funzione che dentro una variabile conta quante volte è stata chiamata allora inventiamocela un attimo insieme supponete che io scrivo void gestione errore e gli passo alcuni parametri int valla e questo mi dice se il valore è un'anomalia oppure quando c'è un valore anomalo io chiamo questa funzione che mi deve gestire l'anomalia allora mi farebbe piacere che questa funzione in una variabile conta contasse quante volte è stata chiamata magari possiamo fare anche meglio io scrivo int questa roba qui qui dentro ho una variabile conta e inizialmente metto uguale a 0 quando la funzione viene chiamata io gestisco l'errore poi faccio cont più più quindi incremento e faccio return cont allora secondo voi questa funzione scritta così anche se la chiamo 100 volte quale valore mi destituisce? c'è poco da fare sempre uno perché ogni volta io chiamo questa funzione allovo con la variabile cont sullo stelo ci metto il valore 0 verifico qual è l'errore e quindi mando una stampa video attivo un allarme faccio tutto quello che sia e poi restituisco cont ma qua ci restituisco sempre 1 quando la funzione termina la variabile non c'è più sullo stack quando richiamo questa funzione questa riparte scrive cont 1 uguale a 0 e tog quindi non ho fatto niente però i progettisti mi permettono di scrivere static int cont cont uguale a 0 che succede? la prima volta che io chiamo questa funzione la variabile cont viene allocata nell'area dei dati globali e gli viene scritto dentro il valore 0 poi faccio quello che devo fare incremento cont e qui viene scritto il valore 1 retaglio cont restituisco 1 la chiamo un'altra volta poiché quando viene chiamata questa funzione la variabile cont è già presente nell'area dei dati globali l'istruzione cont uguale a 0 viene ignorata dal compilatore faccio quello che devo fare faccio cont più più vado qui dentro e scrivo 2 faccio retaglio cont restituisco 2 tagliamo un'altra volta ci scrivo 3 restituisco 3 e così via allora vedete in questa maniera utilizzando questo qualificatore statico io ho definito una variabile locale a questa funzione che però continua a vivere nell'area dei dati globali al di fuori di questa funzione questa cosa è molto utile e serve anche a garantirmi che questo contatore può essere modificato dall'esterno cioè io programmatore ho una libreria di programmi tra cui c'è anche questa funzione qua ma se io voglio condividere dei programmi con lei e le voglio dare dei programmi che ho scritto io però non voglio che lei li modifica e non voglio neanche darle il codice sorgente voglio solo che lei li utilizzi allora io che cosa le devo dare? non le devo dare il codice sorgente io le do solo il file con estensione .o che ho compilato io lei se lo aggiunge nel suo progetto come chiama quelle funzioni che stanno scritte in questo file? le do il file .h dove stanno scritti i prototipi tra questi prototipi c'è anche questo prototipo qua quindi lei può utilizzare la funzione che ho scritto io ma non ne conosce il codice conosce solo il prototipo cioè sa solo come si chiama ragazzi se io voglio usare le funzioni mi compro delle librerie per le mie applicazioni noi utilizziamo nei corsi per esempio di analisi di immagini noi utilizziamo delle librerie che ci permettono di gestire file immagini queste librerie sono proprietarie io mica posso vendermi o utilizzare in maniera impropria il codice che si è scritto dentro posso usare per esempio una libreria che mi permette di fare un che so una convoluzione o un filtraggio su un'immagine salvata in formato TIF un'immagine salvata in formato JPEG ma questo codice non l'ho scritto io ma lo posso usare allora quando io mi compro la libreria non mi compro i sorgenti mi compro il file compilato ho l'idelfile che mi dice come devo chiamare queste librerie le aggiungo e il gioco è fatto aggiungere le significa metto cancelletto include image.lib ho l'idelfile image scusate image.h dentro questo idelfile ci sono i prototipi e quindi io so come chiamare quelle funzioni il codice scritto in linguaggio macchina si trova nel file .lib che è il codice macchina e quindi io non lo posso modificare lo posso solo usare allora se io mi do una funzione fatta così domanda ma questa variabile qua la potete cambiare? cioè qualcuno potrebbe barare e dire un po' questo numeretto lo abbasso così ti faccio risultare che la linea di produzione ha meno anomalie rispetto a quelle che sono vere perché se questa variabile fosse accessibile a tutti se io fossi un programmatore malevolo potrei dire ma quella è globale io invece di scriverci il valore che c'è ci scrivo 10 ci sta scritto 100 ci scrivo 10 e risulta che la linea ha molte meno anomalie di quelle che sono vere ma quando io l'ho scritta così su questa variabile ci potete mettere le mani? no perché è blindata qui dentro questo codice non ve lo do e non c'è niente da fare ogni volta che la chiamate questa variabile si incrementa allora le variabili statiche mi permettono di avere una variabile che vive al di fuori una variabile locale a una funzione che ha una vita anche al di fuori di quella funzione però può essere toccata solo qui dentro se io provo a scrivere conto uguale 0 da qualche altra parte è una variabile non visibile questa istruzione non viene genera un errore da parte del compilatore allora le variabili statiche mi permettono di aumentare la sicurezza di un dato perché lo blindano dentro una funzione più avanti nel posto vi farò vedere come utilizzando questo concetto ci costruiremo uno stack noi invece di usare uno stack di sistema ci costruiremo uno stack e vi farò vedere come possiamo scambiare variabili tra due funzioni senza passare per lo stack di sistema ma bastando per questo stack che ci siamo costruiti noi allora faremo a mano tutta la catena voglio chiamare una funzione prima ci metto le variabili in questo stack che mi sono creato io poi faccio partire la funzione e non gli passo niente la funzione accede a questo stack si prende quello che gli serve e la pure il dato faremo questa cosa utilizzando una funzione gestione stack e blindando l'area di memoria usata per lo stack come variabile statica dentro questa funzione così capirete fino in fondo come funziona questo meccanismo di scambio tra funzione chiamante e funzione chiamata allora con questo abbiamo concluso tutte le regole di visibilità del linguaggio C++ variabili globali variabili locali variabili esterne variabili statiche globali che significa che non tocco il ciclo di vita ma ne limito la visibilità perché la visibilità di una statica globale è limitata al file nel quale mi trovo e l'opposto il qualificatore statico applicato alle variabili automatiche perché non ne cambio il ciclo di vita che rimane locale alla funzione ma scusate non ne cambio la visibilità che rimane locale alla funzione ma ne cambio il ciclo di vita che diventa invece globale ok queste sono le classi di memorizzazione di conseguenza quindi abbiamo variabili esterne variabili esterne chi sono? quelle che vengono semplicemente dichiarate allora ragazzi le variabili esterne sono quelle definite da qualche altra parte allora qual è la differenza tra dichiarare una variabile e definire una variabile? per farvi capire questo concetto vi faccio una cosa molto felice ragazzi quello che so per scrivere non si fa mai però il linguaggio lo permette e dichiarisce questo concetto quindi supponete che sto dentro una funzione f e io scrivo poi scrivo varie istruzioni tra cui per esempio x uguale a 0 poi qui sotto scrivo int x secondo voi il combinatore che fa? facciamo due casi non ci metto questo il compilatore arriva qua dice x uguale a 0 va a cercare x nella tabella dei simboli non la trova e dice errore x non è una variabile definita perché se non la trovo nella tabella dei simboli come indirizzo di memoria non posso scrivere queste istruzioni che queste istruzioni significa va in memoria vi indirizza la variabile x e scrivi c 0 ma se x non è in tabella dei simboli non so dove sta in memoria mi genera un errore invece io gli scrivo x esterni in x allora quando gli scrivo questo sto dicendo al compilatore guarda la variabile x qualcuno da qualche parte l'ha definita mettila nei riferimenti esterni non risolti allora il compilatore dice va bene la variabile y non so dove sta però scrivo comunque l'istruzione questa istruzione che sarà? sarà store farà prima un load 0 cioè metti 0 nell'accumulatore e poi farà store x ma per fare store x devo sapere l'indirizzo di x allora viene generata l'istruzione store? dove poi questo punto interrogativo sarà risolto dal linker quando ho trovato la variabile poi vado avanti e trovo int x allora scrivo x e intera la metto all'indirizzo 1000 prima di completare la sua compilazione il compilatore finita la passata fa una seconda passata e dice ma per caso la variabile x è stata rifiuta qui dentro trovo x 1000 ok allora qua la tolgo dai riferimenti esterni e completo queste istruzioni ha senso fare questa cosa secondo voi? si funziona però sto facendo perdere tempo al compilatore prima gli dico che è esterna poi la definisco ma scusate ma faccio così e lui direttamente la trovo allora il concetto di variabile esterna è sto dicendo al compilatore guarda il nome di questa variabile x qualcun altro lo definirà più avanti quindi quando dico extern int x io non sto mettendo niente in tabella dei simboli soprattutto non sto riservando memoria per quella variabile questa si chiama una dichiarazione cioè dico semplicemente al compilatore guarda non è che mi sono scordato di definire quella variabile quella variabile è una variabile che qualcun altro definirà altrove quando invece scrivo int x sto definendo cioè vado in tabella dei simboli metto la variabile e riservo spazio di memoria definire vuol dire associare ad una variabile il suo indirizzo di memoria allora le variabili esterne sono solo dichiarate ma non riservo spazio di memoria le variabili di tipo registro sono un optional che i progettisti hanno aggiunto al mio linguaggio qual è lo scopo? se una variabile io la uso di continuo se una variabile la uso tantissimo faccio tantissimo trasferimento tra memoria centrale e processore ma ogni volta che devo andare a prendere una variabile in memoria metto l'indirizzo sul memory address vado in memoria prendo il dato sul memory buffer dal memory buffer mi torna nei registri del processore tutto questo comporta tempo abbiamo detto che se la variabile sta in memoria per fare questa cosa ci vogliono una ventina di colpi di clock stiamo parlando di qualche nanosecondo allora se invece una variabile la uso molto mi potrebbe far comodo tenermela direttamente memorizzata nel processore tutti i processori moderni hanno un banco di registri generali cioè di variabili che si trova proprio dentro al chip del processore ragazzi il tempo di accesso a questi dati è pazzesco è molto più veloce che andare in memoria a prendermi il dato però questo dipende dal processore processori ce l'hanno processori non ce l'hanno soprattutto perché i registri generali del processore sono pochi se qualche altra funzione li ha già utilizzati non ce li ho più allora i progettisti non possono obbligare il compilatore a allocare un dato direttamente in un registro del processore ma quando una variabile la dichiaro register sto dicendo al compilatore guarda se questo particolare processore ha un registro libero al suo interno questa variabile mettila lì dentro perché dato che la usa tanto è meglio che non perde tempo ad andare in memoria quindi le variabili register rappresentano più che altro un consiglio che io do al mio compilatore se questa cosa è possibile farla la faccio altrimenti poi abbiamo visto le variabili statiche e poi abbiamo ragionato sul fatto che le funzioni sono per definizione funzioni esterne ragazzi mi sapete dire esattamente questo che significa? significa che se io sto qui dentro togliamo adesso queste istruzioni che abbiamo capito di che cosa si trattava allora questa funzione verify input redirect eccetera se io non ci scrivo niente è una funzione che per definizione è esterna che vuol dire? vuol dire che il mio compilatore quando compila questo file che fa? quando sto generando sto compilando questo file che si chiama functions.ctp genero il file che si chiama functions.o a questo file allego una tabella la tabella è fatta così quindi ho una funzione che si chiama verify input allora io qua scrivo verify input e dico questa funzione comincia in memoria all'indirizzo 3000 poi c'è la funzione redirect allora qua ci metto redirect questa comincia all'indirizzo 5000 e così via nel main io chiamo la funzione redirect sto compilando il main e genero il file main.o ma mentre sto generando questo file quando vedo la chiamata alla funzione redirect io lo so dove sta la funzione redirect cioè so dove si trova in memoria no perchè la funzione non sta scritta allora in questo file main.o ci metto la tabella dei riferimenti esterni non risolti e dico redirect punto interrogativo dove sta? genera il file main.o il linker quando genera l'eseguibile parte dal main.o e dice tu mi hai chiamato la funzione redirect andiamo a vedere dove si trova e vado a guardare negli altri file del mio progetto guardo questo file qua e vado a leggere questa tabella c'è per caso una funzione definita qui dentro che si chiama redirect? sì dove si trova l'indirizzo 5000 allora qui dentro ci metto 5000 ragazzi quando faccio la chiamata a funzione qual è l'unica cosa che mi serve? lei dice giustamente il prototipo perché? perché se non conosco il prototipo non so quanta roba ci metto sullo step ma quando il prototipo io ce l'ho qui dentro perché ho incluso il file functions.h e in questo file ci sta scritto che il redirect è fatto così però io non so dove si trova il redirect in memoria e perché mi serve? perché se non so dove si trova non posso mettere quell'indirizzo nel program counter per saltare a eseguire la funzione del redirect quindi il compilatore quando compila il main queste informazioni non ce l'ha allora mette questo nella tabella dei riferimenti esterni non risorti quando compila ogni funzione mette i nomi esterni con l'indirizzo in un'altra tabella il linker vede quello che manca qui lo va a cercare in questa tabella e quando lo trova completa l'istruzione quindi tutto quello che io devo fare quando chiamo una funzione lo so perché mi basta sapere come è fatta la funzione ma l'unica cosa che non posso fare è l'istruzione di muovere il valore di quell'indirizzo nel program counter quell'istruzione non la posso fare perché l'indirizzo dove comincia la funzione non lo conosco è il linker che lo va a leggere in queste tabelle e completa il program ecco perché se vi scordate di mettere l'include se vi scordate di mettere il nome della funzione non è il compilatore che vi da errore vi darà un messaggio linkerror il nome della funzione non è stata definita perché il compilatore compila ma quando il linker va a mettere insieme i pezzi quella funzione non la trova e vi genera un errore va bene ragazzi questo mi sembra più o meno tutto quello che c'è da sapere per quanto riguarda diciamo le classi di memorizzazione ultima cosa se io una funzione la dichiaro static supponete che io qui dentro vado in functions.cpp e scrivo static bool verify input che succede? che la funzione verify input non la metto in questa tabella esterna che quando la cerco non la trovo e si genera un errore in altre parole una funzione dichiarata statica è visibile solo nel file nel quale si trova quindi anche per le funzioni posso avere la classe generale che è extend la vedono tutti ma posso definirmi una funzione in un file che non è visibile all'esterno che il cui uso è limitato in questo file secondo voi qual è lo scopo di questa funzione? se io sto dando a lui la mia libreria di programmi e non voglio che una certa funzione venga utilizzata perché è una funzione che magari mette le mani su dei dati sensibili che non voglio vengano toccati io quella funzione la faccio static quindi do il mio file functions.o a lui ma quella funzione da fuori non è accessibile e non ci può mettere le mani nessuno allora io programmatore quando faccio la mia libreria di funzioni sono io che decido quello che gli altri possono usare oppure no sia come variabili perché se la dichiaro static è visibile solo qua dentro sia come funzione una funzione dichiarata statica non è accessibile all'esterno va bene questo completa il discorso sulle classi di memorizzazione e detto questo volevo solo farvi vedere una carrellata delle funzioni che fanno parte del linguaggio C++ se andate a guardare nei manuali o nelle linee del condinatore o semplicemente mettete su internet libreria standard cpp vi compaiono tutti i file di libreria ora su questo piuttosto che fare un elenco noioso adesso le vediamo quando ci servono in pratica abbiamo funzioni che lavorano sui caratteri funzioni numeriche del tipo valore assoluto seno coseno tagente esponenziale logaritmo e quant'altro funzioni varie una funzione per esempio random che genera un numero casuale in un certo intervallo vuol dire che abbiamo una certa probabilità uniforme di generare quel valore in un certo range oppure funzioni come clock che mi restituisce il tempo di CPU in secondi voglio sapere dalla mia applicazione quanti secondi di processore ha preso allora chiamo la funzione clock prima che cominci poi parte la mia funzione la richiamo quando è finita per differenza so quanti secondi ha impiegato il mio programma a girare ragazzi fate attenzione perché la funzione clock mi dà il tempo di CPU poiché la CPU fa 100 cose mentre si è eseguendo anche il mio programma questa va eseguita con molta attenzione sennò vengono fuori i numeri sballati e qua è il discorso che abbiamo fatto sulla compilazione modulare quindi il fatto di avere più file sorgenti ognuno di questi è generato dal compilatore poi abbiamo tutti i file oggetto cioè i file con estensione .o con tutte le tabelle delle quali abbiamo discusso ora il linker mette insieme tutti questi pezzi inclusi i moduli di libreria e genera il programma eseguibile quindi ragazzi quando voi fate build cliccate il bottoncino sull'ambiente NetBeans quello che si scatena è tutto questo progetto che è sintetizzato qui ultima cosa e poi ci fermiamo qualche minuto il cosiddetto overloading delle funzioni allora se io devo avere una funzione che fa per esempio la somma di due numeri e io volesti trattare sia il caso dei numeri reali che il caso dei numeri complessi come potrei fare? il numero reale è il numero reale lo sapete io scrivo float x e poi mi potrei definire una funzione che chiamo float somma di float x float y questa funzione fa la somma sto dicendo una cosa banale io ho l'operatore più che direttamente fa questo ma supponete che mi voglio definire una funzione che mi fa la somma in questa maniera e se voglio sommare due numeri complessi mi farebbe molto piacere definirmi il tipo complex e avere una funzione che chiamo sempre somma che mi restituisce un numero complesso ma alla quale chiamo alla quale passo complex x complex y allora il punto qual è? si supponete che io ho definito il tipo complex che rappresenta un numero complesso potrebbe essere una coppia di valori coefficiente reale coefficiente di parte reale coefficiente di marginale e poi spiego complex a complex b mi piacerebbe usare una stessa funzione che si chiama la stessa maniera nel mio programma vorrei scrivere direttamente C vorrei scrivere direttamente per esempio L uguale a somma h più k h virgola k allora secondo voi il nostro compilatore quando vedete questa roba che fa? se non avessi la possibilità di usare lo stesso nome questa ma la dovrei chiamare somma 1 e questa somma 2 dopo di che qua se sto usando i numeri reali scrivo somma 1 hk se sto usando i numeri complessi scrivo somma 2 cioè devo usare due nomi di funzioni diverse ma perché l'operazione che devo fare la stessa mi piacerebbe chiamarlo somma e mi piacerebbe utilizzare lo stesso nome per tutte e due allora il compilatore si può trovare davanti a questa stanna cosa che ha una funzione che ha lo stesso nome però di fatto sono due funzioni diversi perché qui scriverò semplicemente float z e qua scrivo z uguale a più b retardo z qui devo fare due variabili ancora di tipo float faccio la somma sulla parte intera la parte reale faccio la somma sulla parte immaginario faccio il retardo di complex quindi c'ho due funzioni che stanno in memoria in due parti diverse che fanno operazioni diverse ma che hanno lo stesso nome il compilatore si trova questa roba davanti allora nella tabella dei riferimenti esterni c'ha la funzione somma alla quale corrisponde un certo indirizzo un'altra funzione somma alla quale corrisponde un altro indirizzo il nostro compilatore come fa a capire che succede? avendo a disposizione il prototipo va a guardare come sono state dichiarate queste variabili se sono complex non se ne mette nulla e chiama questa funzione qua se sono float chiama questa funzione qui quindi per fare over loading delle funzioni ci permette di usare lo stesso nome per più funzioni le quali sono funzioni diverse che fanno cose diverse però concettualmente fanno la stessa operazione applicata a tipi di dati diversi l'over loading mi consente di usare lo stesso nome per specificare funzioni che corrispondono a funzioni diverse ma come faccio a capire? faccio a capire lo capisco perché una funzione è caratterizzata da un nome dal tipo restituito e dalla lista dei parametri allora io posso avere funzioni che hanno lo stesso nome purché siano diverse o per il valore restituito o per il numero e il tipo di parametri questo si chiama over loading o sovraccaricamento in italiano ed è un'operazione importante perché mi permette di esprimere in termini generali qual è l'operazione concettuale che devo fare poi se ho dati di tipo diverso la farò su dati di tipo diverso immaginate che faccio una funzione prodotto se la faccio su dei numeri interi ho un prodotto tra interi se la faccio su vettori ho un prodotto scalato ma la posso continuare a chiamare prodotto ma quello che cambia è come si realizza perché sta cambiando il tipo di dato sul quale la funzione lavora questa è una cosa molto importante usatissima nel linguaggio C++ quindi ci dovete far conto tenete ben presente che potete avere funzioni con lo stesso nome ma se andate a guardare il prototipo queste funzioni si distinguono per il numero e il tipo dei parametri scambiati o per il valore del istituto va bene ragazzi ci vediamo qualche minuto